Buongiorno, sono Mario Coronetta, presidente Rieti Varrone e siamo qui a Greccio, situati al santuario di Greccio, dove veniva nei tempi del circa 1200-1220 Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi venendo su questi posti veniva a pregare su tutta la valle Santa Reatina. Come Rieti Varrone abbiamo voluto ricordare già dal 1992 insieme all'istituto provinciale di Rieti per fare una statua a ricordo di Francesco. Nel 92 fu posta questa statua in un piazzale sottostante, nel 98 fu posta qui dove la vedete in questo momento, quindi fu rimossa e messa in questo punto. Questa statua raffigura Francesco con una sua faccia un po' triste, perché veniva qui ultimamente per più che altro guarire la sua malattia, dedica un po' agli occhi che non vedeva più tanto. Quindi questa statua raffigura lui in maniera un po' triste. Poi ne abbiamo un'altra su Rieti, vicino alla cattedrale, al centro di Rieti, dove c'è un'altra statua di Francesco, nella quale si vede la persona più sorridente, nella quale addirittura spicca come quasi non voler toccare da terra. Nel 2005 siamo ristati qui con il gemellaggio, con i rovassi paes de France. Qui questo è il posto dove Francesco veniva a curarsi e a propagandare la sua dottrina. C'è da dire che fu posto il primo presepe vivente e unico al mondo. E questo ogni anno si ricorda, nella sera di Natale o nelle feste natalizie, si ricorda questa cosa di questo presepe vivente, unico in tutto il mondo. Grazie, signor Presidente. Grazie, non solo per te, ma per te, per te, per te, per creare questa statua disponibile in memoria di San Francesco di Assisi. Penso che sono sempre impressionato con gli italiani italiani e il lavoro che fanno per le arti, e per te, per te, per te, per te, per lo strano dell'Italia e per te, per te, per il verione.